Diamo un applauso un po', più all'energia, un po', un po', un po' di energia, fatemela sentire, tutti insieme! Poi dopo andiamo a fare tutti i giri in mondo, la vengo qui comunque. Allora, dovresti presentarvi le nostre splendide e bravissime ragazze, ricominciamo subito alla sinistra del palco. Voglio morire, Dottodei! Dottodei! Il mondo ha trovato la voce. Allora, eccolo qua vicino a me, lei viene da Santos, San Paolo, Brasil. Giorgio di Cristiana!